Mi dispiace se ti ha dato fastidio. No, è simpatico, davvero. Bene. Fatto? Uh, posso provare? Dici sul serio? Non lo so, è roba molto forte. Sono sorso. Sicura? Sì. Va bene, ecco. Vai pure. È molto forte. Oh mio Dio. Già. Sì, lo so. Wow. Lo so, te l'ho detto. Come fai a berlo? Non lo so, forse perché lo bevo da sempre. Sai chi mi ha dato la prima birra? Chi? Mio padre. Davvero? Sì, avrò avuto sei anni. Mi portava alle partite di baseball tutti i sabati e me la faceva bere. Ti ubriacavi? No, non mi ubriacavo, ma era buona e mi scaldava. Dov'è adesso tuo padre? Fai il pilota di linea. Davvero? Sì, vola per tutto il paese. Sutter è fichissimo. Lui è fichissimo. Non so perché sia rimasto con mia madre per così tanto, ma... Cioè, hanno divorziato? Sì, lei l'ha cacciato tanto tempo fa. Ne vuoi ancora? Eh, certo. Sì, perché no? Sembra quasi che abbiamo la stessa mamma. Sì? Come mai? Beh, ad esempio, mi hanno accettato al college oggi, ma lei non mi ci manderà mai, perciò... Ti hanno accettato al college oggi? Mmh. È stupendo. Sì, grazie. Congratulazione. A Philadelphia. Ed è fico perché ci abita mia sorella, ma... Amy, non so che cosa dire, è stupendo. Grazie. Congratulazione. Grazie. Sì, ma non è importante, cioè non è niente di che. Non ci andrò mai, quindi non è... Ma che dici? La mamma, devo aiutarla con la consegna. Che cosa c'entra tua madre? È per la consegna. Sì, deve consegnare i giornali. La consegna dei giornali? Sì, è da sola. Ha bisogno... Amy, tua madre è un'adulta, può... Lei... Può occuparsi lei della consegna dei giornali. Tu vai assolutamente a Philadelphia. Sì, al 100% vai a Philadelphia. Sì, lo so. Ma io... Sì, ci vai. No, dai, nessun... Ma Amy, non capisci? Sei geniale. Una persona brillante e sei circondata da persone che ti dicono solo che non puoi fare un cazzo. La devono smettere. Devi imparare a farti valere. Come? Ah, te l'insegno io, bevi un altro sorso di quella roba. Buttala, buttala giù. Giù, in gola. Ok, ora ripeti dopo di me. Mamma, vaffanculo, lasciami in pace, cazzo. Cosa? Sì. No. Sì. Non posso. Dillo. Mamma, lasciami in pace. No. Devi dire vaffanculo. Non posso. Sì che puoi. Fallo, dillo. Mamma, vaffanculo, lasciami in pace. Vaffanculo, cazzo. Cazzo, vaffanculo. Vai. Vaffanculo, cazzo, sì. Vaffanculo, cazzo, lasciami in pace, mamma. Sì. Cavolo. Cavolo. Sì. Cazzo, vaffanculo. Niente male. Bichissimo. A chi altro? Mi piace? Non so, ho fatto i cazzi tuoi, basta, Crystal. Vaffanculo, Crystal. Sì, vaffanculo, cazzo. E cosa ne pensi degli ex ragazzi? Bisogna metterci un ex ragazzo, ci vuole. No, non ne odi ex. L'ex che ti abbia fatto proprio, proprio incazzare, che, proprio, lo odi, perché ti ha fatto... Non ho un ex ragazzo. Che? No. Ma come? Hai 17 anni e non hai un ex ragazzo? No. Davvero? I ragazzi non mi vedono così, cioè... Sì, i ragazzi ti vedono così, è come? No, no, io... Ne ho visti due che ti guardavano così. Vuoi dire... Eric e Cody ci provavano al cento per cento per cento. No, no, stavamo solo parlando, non ci provavano per me. Te lo dico io, credimi. Perché dici che non ci provavano? Perché io sono... non ci provavo. Perché sai cosa? Amy, tu sei talmente bella. Oh mio Dio, no.